Ma sul piano locale che cosa abbiamo voluto fare come circoli del Partito Democratico della Valle del Sabato nei comuni di Contrada, Ielo, Cesinali, Santo Stefano, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino? Abbiamo voluto incontrare le amministrazioni, i fornitori di servizi individuali tra i più rilevanti, ciclo in grado delle acque, ciclo in grado dei rifiuti, consorzio ASI per pensare a una strategia comune all'interno di un bacino che presenta una grande omogeneità. Noi siamo da un lato schiacciati dalla città di Avellino e dall'altro c'è il distretto industriale. Siamo una terra di mezzo con un sito di circa 23-24 mila abitanti e chiediamo cosa c'è per la valle, qual è la nostra prospettiva. E questo è quello che vorremmo chiedere ai sindaci questa sera, al sindaco della città di Avellino e agli organismi che forniscono i servizi pubblici rilevanti, più rilevanti, più locali, più rilevanti di questa provincia. C'è però la necessità anche che siano i comuni a predisporre, a lanciare iniziative. Da questo punto di vista quali le vostre proposte? Su questi temi sono tanti questa sera. Allora, intanto che si adotti un metodo, che è quello dell'anticipazione, non quello dell'inseguimento. Quando l'esperienza insegna che all'indomani del pronunciamento di bandi della comunità economica europea, che con delle finanziamenti in talune direttrici, ecco, si corre all'ultimo momento per rafforzionare progetti, per mettere insieme conferenze di servizio. Ecco, la rete deve far sì che si mettono sin dall'inizio delle progettualità in campo, sul tavolo, sul tappeto, per essere pronti tutti insieme a partecipare ai bandi che poi hanno poca validità temporale nella loro fruizione, per cui si corre il rischio poi della mancanza di spesa. Ecco, per vincere questa difficoltà la tecnica dell'anticipazione è quella che dovrà in qualche modo darsi da fare. Al tavolo manca la regione? Una sorta di diffidenza? Al tavolo c'è, ci dovrebbe essere la consigliera regionale D'Amelio, la quale in questo momento è impegnata nell'ambito di una conferenza speciale sulla città di Napoli, ma si rammenti che siamo all'interno di un circuito del Partito Democratico e non mi è stato facile avere la presenza del presidente della giunta regionale Caldor.